L'inflazione è la nuova pandemia economica alla quale si deve dare una rapida risposta. Ed è un'inflazione da record quella che in Piemonte sta investendo in prese e famiglie, ma a livello territoriale piemontese è biela quella che ha registrato l'incremento più alto con un più 5,2%, passando dallo 0,5% di febbraio al 5,7% dello stesso periodo di quest'anno. La maggior parte dell'aumento dei prezzi deriva dai beni energetici, che a febbraio di quest'anno hanno subito un incremento del 23,9% rispetto all'anno scorso. In seconda posizione i trasporti ed ancora gli alimentari, quarta posizione per la ristorazione, seguono i mobili, l'arredamento, i servizi relativi all'istruzione, alla sanità, prodotti per l'abbigliamento e calzature. E sono questi dati che emergono dall'analisi sulla crescita dell'inflazione, realizzate da confartigenati imprese. L'aumento generalizzato dei prezzi, commenta il presidente Giorgio Felici, sta mettendo in crisi le imprese, strette tra la morsa delle tasche vuote delle persone e l'incredibile aumento dei prezzi delle materie prime. Il rischio dei costi che stanno esplodendo si potrebbe tradurre in saracinesche abbassate. Dunque lo Stato deve tornare ad essere Stato, attuare i meccanismi per tutelare la propria società e la propria capacità produttiva. Non possiamo più perdere tempo, i cittadini e le imprese italiane debbono venire prima a discapito di tutto il resto.